a questo proposito amiche vogliamo farvi vedere il cd di eduardo palomo con il cd si poteva trovare il calendario con tutte le foto veramente bellissime di eduardo credo che tutte le abbiamo conservato delle foto veramente che ancora oggi si trovano in rete le vediamo però almeno sappiamo che queste foto provengono da questo calendario bellissimo che che accompagnava appunto il cd e questo cd muovere il tempo aveva una particolarità eduardo aveva disegnato ogni ogni testo per ogni testo c'era un disegno e ecco abbiamo sara amata style fin e ogni canzone appunto è firmata con un bellissimo disegno fatto da eduardo e il segno apparteneva insieme alle parole era un tutt'uno quindi è come se fossero proprio delle piccole poesie che eduardo ci ha lasciato e sicuramente all'interno del cd troviamo la canzone piel con piel è una canzone che eduardo aveva dedicato alla sua amata carina e che ancora oggi possiamo rivedere chiaramente nei vari social e questa canzone più che una canzone è veramente una poesia d'amore dedicata alla sua amata eduardo con conclude questo cd chiude questo cd con una frase che è cara a tutti noi che lo abbiamo amato che continuiamo ad amarlo l'amore è l'unico cammino che non ha mai fine e ha ragione ancora oggi è così per tutte le mie